Ho percepito qualcosa che è cambiata? Sì Un po' No, è che si cambierà Però è un altro della caverna Sulla stessa Allora, già, comincia Un nuovo video, ciao a tutti Ciao a tutti Io sono? Ciao a tutti, io sono Anna E oggi vorrei raccontare un nuovo video Un nuovo video che mi si sentiva per me Ciao a tutti, io sono Anna E oggi vi vorrei raccontare una nuova storia E si intitola la storia di Babbo Natale C'era una volta Un bambino Che voleva scoprire a tutti i costi dove stava Babbo Natale Allora un giorno Andò al Polo Nord Fogli una strada Quindi Partì 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 Verso la seconda stella a destra E al posto di trovare l'isola che non c'è Trova Il Polo Nord Poi nel Polo Nord Trovò una caverna più grande E una più piccola Quella più grande Era ricoperta Da stadi neri Invece Quella più piccola Era buio Allora lui prese ovviamente Quella più grande E ritrovò E ritrovò E Allora Babbo Natale Portò lui Conte al palazzo Insema il padre La madre E tutta la sua famiglia Poi ritornava una casa Sempre a fine Babbo Natale E il giorno dopo Il bimbo si ritrova Una montagna di regali Tutti dedicati a lui E da allora Babbo Natale Fu amico di tutti gli amici Di quel bimbo E viscerò per sempre Tutti felici e contenti Ciao